Sono Gianni Lugari, assieme ai miei figli Alberto e Alessandro produciamo video di caccia da più di 30 anni. Di comune accordo abbiamo deciso di portare le nostre videoproduzioni nelle vostre tasche e nelle vostre case e più precisamente nei vostri smartphone, nei vostri tablet e nei vostri computer. Scaricando la nostra app Lugari Pocket con poche e semplici operazioni potrete accedere alle nostre videoproduzioni nella misura e per il tempo che riterrete opportuni. Vi aspettiamo pertanto la visione dei nostri filmati di vera caccia. Grazie per la visione! Grazie a tutti!